... Era appena iniziata la primavera nella bella penisola e per Silvio Berlusconi era una giornata di merda come tante altre la magistratura continuava a starvi alle calcagna e ho la fortuna di aver potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici la persecuzione naturalmente e i avvocati i sondaggi lo davano in caduta libera così quando alle 3.32 del 6 aprile 2009 un terremoto sveglia perfino gli abitanti della casa del grande fratello e quando si scopre che un'intera città è stata limitata per Silvio Berlusconi è come se Dio gli avesse teso ancora una volta la mano questo terremoto è stato un grandissimo successo nessun altro terremoto ha fatto l'ascolto che ha fatto questo non può riprendere che cosa? il grande vento è ciò che il governo decide essere il grande vento arriva il papa, arrivederci e grazie crea un grande vento i giochi del Mediterraneo, i mondiali di nuoto si fa la protezione civile andiamo bene ma e le donne dove sono? tutti gay la prossima volta che vengo trovami le porto io le peline la occupa di stare per il terremoto non è che si è un terremoto al giorno io ti dico stavanti alle 3 minuti io pure vabbò ciao